L'assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale della regione Sicilia ha colto la richiesta di istituire nuovi indirizzi di studio per l'istituto di istruzione superiore Giorgio Lapira di Pozzallo, nello specifico l'indirizzo sportivo e quello della curvatura biomedica per il liceo scientifico, l'articolazione logistica per l'indirizzo trasporti e logistica ex tecnico nautico e l'introduzione di un nuovo percorso di studi per il commerciale con l'attivazione dell'istituto professionale per i servizi commerciali. Si tratta di un importante risultato per la città di Pozzallo e soprattutto per i giovani pozzalesi. L'ottenimento dei nuovi indirizzi all'istituto Giorgio Lapira di Pozzallo, che è l'unico istituto superiore della nostra città, ci riempie di grande soddisfazione e qualifica l'offerta formativa e l'offerta studentesca della città di Pozzallo. Io voglio ringraziare la dirigente scolastica, la presidea Aldrichetti, l'assessore Alessandra Zarelli e soprattutto l'assessore regionale alla pubblica istruzione, con cui abbiamo interloquito continuamente, per averci concesso questo riconoscimento. Il riconoscimento ad una città che in questi ultimi anni ha avuto l'ambizione di crescere non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale, perché crescere economica e crescere culturale devono andare parallelamente e arricchire l'offerta formativa dell'istituto Lapira a Pozzallo mi pare che si muova nella direzione giusta. Quindi siamo contenti, siamo soddisfatti. Ci abbiamo creduto. Io ringrazio naturalmente in primis la dirigente Mara Aldrichetti, ma tutto il corpo docente che ha lavorato in questo anno e questi sono i frutti. Quindi ringrazio tantissimo e auguro che la città di Pozzallo risponda bene a questa nuova offerta formativa, perché non permette solo appunto di avere nuovi indirizzi, ma permette anche di creare figure professionali nuove che il settore ricerca. Quindi questa è una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale, ma per tutta la città di Pozzallo e per i giovani pozzallesi. Abbiamo avuto quest'anno l'autorizzazione da parte della Regione Sicilia di nuovi indirizzi. Per la nostra scuola è una grande novità e soprattutto una grande opportunità per tutte le studentesse, gli studenti, sia della nostra città ma anche del territorio. All'interno dell'istituto tecnico-economico abbiamo avuto l'autorizzazione ad avviare dal triennio, quindi dal terzo anno, l'articolazione ai sistemi informatici aziendali. Questa è una novità per il nostro sistema scolastico di istruzione perché darà ai ragazzi e alle ragazze che usciranno da questo percorso delle competenze che saranno importanti da sfruttare nelle aziende perché ormai tutte le aziende e la nostra società si avvale dell'informatica per gestire i dati e tutta la produzione. Poi abbiamo avuto all'interno del Nautico anche l'indirizzo della logistica, anche questo è un importante percorso di formazione voluto fortemente con la riforma delle superiori da Confindustria perché è una figura importantissima per tutto quello che riguarda la movimentazione merci, persone e anche la gestione delle aziende della produzione. All'interno del liceo scientifico, e questa è una grandissima soddisfazione per noi e per tutto il territorio, abbiamo avuto l'autorizzazione per l'avvio dal primo anno del liceo scientifico sportivo con anche la possibilità della curvatura biomedica che partirà dal terzo anno. Ovviamente questa curvatura biomedica lascia a voi pensare quali sono le opportunità che potranno avere i nostri ragazzi una volta terminato questo percorso che comunque viene riconosciuto all'interno delle università per accedere poi ai percorsi sempre legati appunto al biomedico. Poi abbiamo avuto, e anche questa è una grandissima novità e soprattutto una grandissima opportunità, l'istituzione del percorso professionale, quindi avremo l'istituto professionale con indirizzo servizi commerciali a partire dal primo anno. Tutto quello che abbiamo ottenuto è stato il frutto di un grande lavoro di squadra e di una sinergia tra tutti noi docenti, la dirigente e il comune di Pozzallo.